Tamara Bizzotto, consigliere comunale Lega Nord Liga Veneta. Entriamo in merito al discorso della rotonda del generale Giardino per ritornare a parlare del piano urbano del traffico, perché chiaramente qualsiasi scelta che venga fatta dall'amministrazione in assenza del piano urbano del traffico è una scelta che secondo noi non ha senso. Nel programma del sindaco Cimatti, ancora in campagna elettorale, nel suo stesso programma evidenziava questa grossa carenza per la città di Bassano e lamentava che in dieci anni non fosse stato fatto nulla. Nelle linee programmatiche, sempre nelle linee direttive del sindaco, si legge che è una delle priorità, quindi è stato rimarcato ed evidenziato in tutte le maniere, però mi sembra che a due anni di distanza il piano urbano del traffico ancora non c'è, o meglio il piano urbano della mobilità come l'hanno rinominato. Quindi tutte le scelte possono essere buone, possono essere cattive, però se non abbiamo un'idea generale di quella che deve essere la viabilità Bassano, dei flussi veicolari e di tutto quello che ruota attorno, fare delle rotonde a spot, a destra e a sinistra, senza avere una concezione generale del tutto, ci sembra poco utile. Riteniamo che il doppio senso nella salita e discesa per il Prato Santa Caterina possa comportare sicuramente un alleggerimento del traffico che attualmente entra da Porta delle Grazie e percorre il Viale dei Martiri per scendere al parcheggio del Prato Santa Caterina e delle Annette. Quindi ogni valutazione in merito poi ad una eventuale chiusura del Viale dei Martiri, secondo me, è subordinata alla verifica di quale sarà effettivamente il passaggio che il Viale dei Martiri dovrà ancora sostenere. Abbiamo evidenziato secondo noi la necessità di inserire un tabellone luminoso all'ingresso della porta o eventualmente anche prima del bivio di Piazzetta Zaine per segnalare gli eventuali posti liberi di Piazza Terraglio in modo tale che tante auto che adesso entrano e fanno la giostra in Piazza Terraglio per trovare un parcheggio molte volte a vuoto evitino addirittura di entrare e quindi alleggeriremo ancora di più il traffico di questo Viale magari andando incontro un po' ai commercianti e ad avere alcuni parcheggi a disposizione e però togliendo quel traffico inutile che va solo ad ampesantire la via per poi scendere in Prato Santa Caterina. Ogni decisione in merito alla chiusura o al fatto di tenere aperto il Viale dei Martiri, secondo me, andrà fatta solamente dopo che verrà aperto il doppio senso in salita e discesa a Prato Santa Caterina e si sarà valutata qual è il nuovo effetto della circolazione delle macchine. Credo che per quanto riguarda la nuova rotonda, prima di essere definitivamente costruita sarebbe assolutamente importante per un periodo fare una prova magari usando quei blocchi plastici che abbiamo visto per tanto tempo davanti alle scuole Mazzini e valutare effettivamente quale impatto esso ha nella viabilità, anche perché più avanti c'è un semaforo e già adesso la situazione negli orari di punta molte volte, anzi spesso, quasi sempre, è critica e la colonna di macchine arriva ben oltre il General Giardino. Quindi mi chiedo cosa succederà quando le auto per risalire dal Prato Santa Caterina, quindi oltretutto in salita, si troveranno incolonnate con tutta la colonna che scende dalla Val Sugana. Quindi il discorso della rotonda è molto delicato. Io speriamo che si possano trovare delle soluzioni migliorative e che vadano veramente incontro a una soluzione per agevolare il flusso del traffico veicolare. Ho visto che su Bassano Online c'è un progetto alternativo di una rotonda leggermente spostata più a nord. Ritengo che possa sicuramente essere valutata, che però il problema dell'ingorgo del traffico e quindi dell'incolonamento non venga risolto. E poi c'è anche l'aspetto che comunque si dovrebbe andare ad espropriare i mobili di privati con tutte le difficoltà che questo comporta. Certo che eventualmente se c'è un'utilità si può anche provare. Il beneficio evidente sarebbe quello comunque di mantenere intatto e migliorare il Belvedere di Bassano. È un'ipotesi che allo stato attuale per la conoscenza che ho di questo progetto alternativo non mi sento di valutare, però non mi sento di dare un'indicazione precisa. Però se avremo modo di valutarlo e di capire esattamente in che cosa esso consiste potrebbe dare degli altri spunti per risolvere questo problema legato alla rotonda.